Buon pomeriggio a tutti voi dal campo Quinto Ricci di Aprilia, da Carlo Edoardo Canepone, stanno entrando in campo Aprilia e Real Giulianova, ma prima dell'inizio della gara verrà consegnata una targa al campione dell'Aprilia, Ruben Olivera, che come tutti ormai sapranno ha dato l'avvio al calcio giocato. Più di 400 presenze in carriera con 70 gol, ha vissuto anni straordinari in Serie A, ha indossato la maglia della propria nazionale, l'Uruguay ha fatto innamorare Aprilia e i propri tifosi. Grazie di tutto Ruben, questa la targa che è consegnata a Ruben Olivera, un campione che ha giocato in grandi squadre, fischetto in bocca del signor Bruno Spina, comincia la partita tra Aprilia e Real Giulianova, primo possesso in favore dei giallorossi, e gli strappa il pallone, attenzione perché recupera sulla tre quarti l'Aprilia, c'è un po' di spazio per Succi, che fa con il sinistro, parata bassa di Mora. Pala centrale, Barlafante sul sinistro, Barlafante si crea lo spazio, tiro smorzato, facile per Salvati. perde qualche metro il Giulianova che però rimane nei pressi dell'area, poi le tiro e il palo da parte di Massetti, improvviso il destro del numero 11 che ha colto in preparato Salvati, che viene salvato dal palo. Laghigna cerca lo spazio per il sinistro, ancora Laghigna, fa tutto bene Laghigna! Palla fuori di nulla, ma si prende tanti applausi dalla tribuna, Eric Laghigna. Dublice Fischio si va al riposo con il risultato di Aprile a zero, Giulianova a zero. Forcini stoppa il pallone, pensa al tiro, poi scarica dietro per il destro. Da parte di De Cerchio, palla alta, lontana dai pali. Bosi che mette giù, punta Tedone, ancora Bosi, sterza contro sterza, poi si ferma. Palla interessante e c'è il calcio di rigore per l'Aprilia, è andata a terra. Mi è sembrato pesone, mentre arriva anche il giallo, per caso parte Vasco, intuisce Mora, ma non basta. L'Aprilia è avanti, realizza dal dischetto Lorenzo Vasco, subentrato da 15 secondi al posto di Succi. Si prende la responsabilità di battere il rigore e lo realizza battendo Mora al ventunesimo ormai del secondo tempo. D'Antonio, puntaglietti, dietro per De Cerchio, fa partire il destro, palla larga non di molto. C'è spazio quindi per il Giulianova con Barlafante che tocca con il destro. E la palla scivola al lato di nulla, grandissima chance per il Giulianova. Uno, due, tre, eccoli qua i tre fischi. Vince l'Aprilia, uno a zero contro il Real Giulianova. Decide il rigore di Vasco a metà ripresa. Aprilia che sale a quota 38 punti in classifica. Giulianova che rimane terz'ultima, ma comunque salva a quota 28. Grazie. Grazie.